L'Abruzzo fa la conta dei danni dopo le eccezionali mareggiate del weekend che hanno interessato quasi l'intero litorale da Martinsicuro al Vastese, un evento eccezionale per portata e durata con danni ingenti che hanno messo in ginocchio balneatori e amministrazioni comunali tra le zone più colpite, quella di Pineto. La regione sta portando avanti un progetto che è il progetto Ancora, dove ormai si pensa a protezioni un po' più risolutive che sono quindi le protezioni rigide. Io dico la verità, Pineto ha sempre voluto evitare questa cosa in passato perché il mare aperto è molto più bello, però ormai dobbiamo pensare anche alla protezione delle nostre attività e delle nostre abitazioni. Già da ieri si era registrato l'intervento della regione e questa mattina il dirigente ad Interim del settore opere marittime, Franco Gerardini, ha iniziato i primi sopralluoghi per la valutazione dei danni. Qui rileviamo la necessità di posizionare dei massi, delle radenti che possano mettere in protezione queste infrastrutture. Innanzitutto bisogna lavorare insieme tutti, operatori, comune, regione, per avere all'unisono intenzioni chiare ed efficaci. Questo ci consentirà di fare prima della stagione tutti gli interventi necessari. Su quanto accaduto nelle ultime ore è intervenuto anche il candidato presidente per il centrodestra alla regione Marco Marsilio che ha effettuato un sopralluogo sul litorale di Silvi con il sindaco Andrea Scordella. Oggi abbiamo avuto la prova provata che non si trattava di ululati o di allarmismi ma di un problema reale, concreto e presente. Qui a Silvi con l'aggravante perché mentre ieri ad Alba Adriatica non si è ancora capito se esistono progetti e dove sta questa scheda progettuale, in quale cassetto, di quale ministero. Qui abbiamo l'assurdità di progetti pronti, approvati, finanziati. Parte dei lavori già fatti e non a caso dove sono stati fatti la mareggiata non ha colpito e ha risparmiato gli stabilimenti. Qui non parliamo dei danni che si sono verificati in maniera eccezionale. Qui parliamo dell'incuria della regione Abruzzo perché è impossibile che in sei mesi, sei mesi di tavoli, tutto pronto, manca una firma e non si riesce a dare in gara d'appalto questo tratto.